Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parliamo di Hublot MP05 LaFerrari, un orologio che è stato costruito, che è stato realizzato in collaborazione con Ferrari, ispirandosi proprio al modello LaFerrari. Questo modello che io stesso ho visto, che ho avuto il piacere di vedere alla fiera di Baselworld qualche anno fa, è qualcosa di veramente stupendo. A vedersi veramente riempie gli occhi, è veramente qualcosa di unico. È fatto di vetro zafiro, i materiali sono titanio, carbonio, poi ne sono state fatte tante versioni, sono tutte versioni limitate a 50 pezzi, poi negli anni sono state fatte diverse versioni, credo che ce ne sia anche qualcuna tutta un vetro zafiro, insomma gran parte dell'orologio è fatto un vetro zafiro, poi ce n'è qualcuna addirittura in oro, ce ne sono state tante versioni. Appena è uscito questo orologio ha subito fatto un record, il record come riserva di carica. Questo è un orologio che ha 50 giorni di riserva di carica. Per riuscire a fare questo ha 11 bariletti messi in serie, infatti li si vede proprio al centro, sono messi così longitudinalmente, si possono vedere e danno la possibilità immagazzinano l'energia per 50 giorni. Possiamo vedere il tempo nella parte destra dell'orologio, mentre sulla parte sinistra si può vedere subito la riserva di carica, quanto tempo abbiamo ancora come riserva di carica. I componenti sono 637 per cui veramente sono tanti e anche questo un record per quanto riguarda Hublot, il mondo di Hublot. Ha un tourbillon montato longitudinalmente e lo si può vedere, lo si può ammirare e ha un prezzo, un prezzo sostanzioso perché ora in questo momento qui lo si può trovare sul mercato dell'usato a circa 200 mila euro, ma ha avuto diverse quotazioni che si aggirano intorno da nuovo ai 250 mila euro, 312 mila euro. Ecco è un orologio di forma, non è un orologio sicuramente per tutti, è un orologio non convenzionale, ma è un orologio sicuramente che ricerca un primato, che ricerca una sua identità, che ricerca una sua particolarità. Credo che sia importantissimo per quanto riguarda e anche allo stesso tempo molto difficile nell'orologeria creare qualcosa che abbia una sua particolarità, che abbia un suo rilievo, che abbia una sua storia. Sicuramente non è facile, in questo caso i tecnici di Hublot hanno lavorato in maniera molto molto dura per creare un orologio così bello da un punto di vista estetico, naturalmente la bellezza dal mio punto di vista, che amo questi orologi non convenzionali, ma la forma proprio richiama proprio il motore della Ferrari, della Ferrari che si può appunto acquistare, non so a quale prezzo, anche quella sicuramente è una fuori serie. Ci sono veramente, le versioni si sono susseguite negli anni e questo è indice sicuramente anche di un certo successo, seppur limitato nei numeri, perché qua parliamo di serie limitate di 50 pezzi, ma il fatto che per diversi anni si siano prodotte nuove versioni sempre in serie limitato di 50 pezzi fa sì che effettivamente l'orologio abbia una sua, che abbia avuto un suo successo. Ok, a questo punto fatemi sapere come la pensate a proposito di questo orologio e come sempre se vi è piaciuto il video mettete un like, se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!